Con Onofrio Cutaia diamo una svolta alla triste vicenda del maggio musicale che il prestigio culturale di questa istituzione non avrebbe meritato. Il ministro della cultura Gennaro San Giuliano, commentando il commissariamento della fondazione da parte della dirigente catanese che avrà la missione di metterne a posto i conti, non ha risparmiato critiche alla gestione dell'ente lirico. A poche settimane dal mio insediamento ha affermato mi sono dovuto misurare con questa situazione che forse era già chiara nella sua precarietà da prima. San Giuliano ha poi sottolineato come il ministero abbia messo a disposizione uno dei suoi migliori direttori, uomo di comprovata esperienza in questo ambito per ridare equilibrio finanziario e amministrativo al maggio musicale. Sul nuovo commissario si è pronunciato pure il sovrintendente di missionario. Cutaia è un uomo gentile, di grande eccellenza, spero non sarà mangiato da una situazione così difficile, ha detto Alexander Pereira, che travolto dalle polemiche dopo essere finito sotto inchiesta per peculato, lo scorso 27 febbraio aveva annunciato le proprie dimissioni in una lettera inviata al sindaco e presidente della fondazione Dario Nardella e ai consiglieri di indirizzo dell'ente. Sulla nomina di Cutaia come commissario e sul futuro del maggio si è espresso anche il governatore della Toscana, Eugenio Gianni. Mi è sembrato un processo inevitabile perché il commissario ha chiaramente poteri più forti per poter vivere poi una programmazione che a mio giudizio dovrà arrivare attraverso la nomina di un direttore artistico. La gestione del teatro, che sia una gestione anche più aperta, possa consentire di stabilire un equilibrio economico e una prospettiva per il maggio che già ora con gli spettacoli che sono stati fatti negli ultimi due anni si rivela uno degli antilirici più importanti del mondo.